festeggiamenti per l'ultimo dell'anno e il cenone di capodanno tra innovazione e tradizione siamo andati a scoprire i gusti e soprattutto quale sarà il menù dei comaschi ultimo dell'anno come lo festeggerà andremo a passarlo sul lago maggiore ad arona cena al ristorante no prima cena in famiglia e poi passeggiata a lungo lago a casa da soli in famiglia in famiglia con i figli con gli zii e i parenti vado a mangiare fuori per non lavorare in casa a milano zona duomo abbiamo una cara amica che ci ha invitati e facciamo un po di baldoria con i parenti in un ristorante come penso la maggior parte degli italiani in un veglione dove c'è anche musica si balla in una frazione qui del lago badia lariana con amici in pratica e basta in giro non lo so vedremo cosa fare c'è non all'insegna della tradizione dell'innovazione una via di mezzo cucina lei farà una pasta con delle alici una cosa a base di mare diciamo non è un piatto classico è una cosa inventata al momento diciamo ti direi innovazione perché c'è un primo particolare lo puoi svelare non lo cucino io però si chiama sono i pansotti e alle noci una roba sugo di noci una cosa del genere e sì che non lo cucinano altri però dovrebbe essere l'insegna dell'innovazione faremo il lo stinco di maiale con le patate al forno e lenticchie no domani è l'insegna della tradizione tra l'altro anche sicula visto che siamo originari del meridione quindi con biatti tipici nostri della sicilia le lenticchie zampone dolci le solite cose innovazione innovazione sì non mancherà l'alcol quello è sicuro ci sarà l'immancabile cotechino con le lenticchie o no solo le lenticchie solo lentiche senza cotechino visto che servono soldi eliminiamo il cotechino e teniamo solo le lenticchie